Rai, se non puoi mangiare i titoli I titoli, i titoli A 30 aspect tu fanno il porto? Easy We can do that We can do that, brois Vediamo Eh, si sono accorti del problema 22 Dai, manca 30 30 aspect, sono a 30, eh Salve Comincio a f2pare Manga minchia Rai di manga minchia Salve, ci buttiamo in due, dai Raga, ne mancano otto Quante santa si buttano in due? È vero C'è un po' 120, si prende in persona solo Ma che cazzo è che ha fatto entrare sta gente? 80 aspect Porco Dio Che cazzo è? 22, dai Isai che c'è fatto un ride ommeto Raga, otto persone, Dio merda Cazzo, otto persone La sua? Perché il tuffo Sì, ora si deve aggiornare Siamo 80 Ma non mi hai fatto un ride ommeto Grazie a tutti ragazzi Guarda tutta la gente fuori Grazie dei ride, ragazzi Siamo al Mac, siamo al Mac Dio cazzo Eh, qua Qua qualcuno si deve buttare Qualcuno si deve buttare Un attimo Un attimo Si muta Toccherà farlo se tu fai nel porto Eh Una bella raffreddore Non inquadrate che vi bannano Avete il potenziale, grazie Oh amiche Poi siamo a Pesaro E qua già tu ci sei stato Non so se ti ricordi Oh, raga Eh Dai moi Ah, giusto Chiediamo se si possono Due minuti, due minuti Due minuti Si Può far vedere i capezzoli Raga scriveteci Se possiamo inquadrare i capezzoli Ti vedeteci sì o no? Anche corsa dalla spiaggia va bene Anche corsa No No, no Alla scrittomi Però No, no Aspetta Guardatevi che si sta cambiando ragazzi Mi piacciono le cose concrete Ma ormai tu Sì La poverata Ciao Fra fra Mi spiaggia va bene Fra 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 Ciao Quanto vado Ah 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 Oh Pantalone rigosamente corrispondi Sì però dai Ma è il signore S Che è passato Esatto Si è cambiato Sì si si è cambiato Dai Sì tanto venite bannati voi A posto Perfetto Giovanni aspettate la clip Oh ci sei sei pronto? La clip su YouTube Dai Baglio Eccoci Tieni le mani davanti le tettine bro Grazie francese Fate partire un hashtag Capizze di spiaggia Ok Eeeh Al porto Uh Ma si si è il luogo balneare Guardatelo nudo per favore Prima di buttarsi fate partire Hashtag pagliononmollare mi raccomando E poi quando ci sarà uno spam si tufferà Ma si è il luogo balneare Capizze di spiaggia Capizze di spiaggia Mutande no Ok mutande no Hashtag pagliononmollare No Vada vanare Dai paglio Ragazzi manca poco eh È il momento delle due Magli ce l'ha Ma è alto 30 centimetri Che ammazza Ragazzi tu dovete scrivere tutti Hashtag pagliononmollare Momento del verdetto Guarda si due Ciao mamma Ciao mi Ci siamo Non di testa scrittomi No no Ma qui è bassa Qui è bassa Bravo ragazzi Che si ammazza Io vado oltre là che c'è Che ci sono gli squali Sì ma Accendi tipo il flash Che magari si vede meglio Ragazzi metterlo voi Dai vado oltre io Ma in macchina mia c'è Aspetta Una torcia Temi sta roba Gli ultimi metri Dai mu Dai dai fa vedere Allora sto corfu Se ti ha segnato Però stai attento Sono serio Aspetta Hai insegnato qualcosa Che rendete Dai paglio Vai lì dove non ce lo scoglio Dai ragazzi Ragazzi è il momento Contra la rovescia Non è bassa Non è bassa 3 Non buttarti 2 A bomba Vai 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 Non buttarti Aspetta Oh mi sta scrivendo Non buttarti Come non buttarti E' alta E' alta E' altina Ma poi Vai vai Va la bomba a candela Non di testa Non di testa Vai Buttati Buttati Vai 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 No 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 Ragazzi aspetta Che siamo Bomba o la candela Scrivete tutti Dai Ci sono gli scogli Ma si butta nel mezzo Deve mettere scogli Aspetta Metti giù Metti giù Ci sono gli scogli Ci sono gli scogli E' calda Vai dalla spiaggia Ha scritto No Ragazzi ma mi sa che Non ti vuole di lui Non ti vuole di lui Lo facciamo per il content No 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 Uno Due Tre Eccolo Ah vabbè dai Ah è vivo Per te No ci sono le pupole Come sguazza Come sguazza Come un'anguilla Nel suo Finiciatolo È vivo È vivo Aspetta Dobbiamo uscire Ci siamo Medusa Ma allora a cogliere Dalla spiaggia Ciappa quel rovo È vivo È vivo È vivo È vivo Bravi Ciao mamma Cosa è un alontra Guarda come sguazza C'è un alontra Nel acqua Guarda 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 Grazie Rico Ci siamo Ecco Ecco L'uscito Da gradiator Grazie Rico Adesso poi Non si vede Un cazzo Purtroppo La medusa nel collo Aspetta Non si vede Un cazzo Si vede Si vede Una sega Eccolo Adesso si vede Ho Bagliò Mi ha preso Una venduta Non si vede Una sega Ecco Adesso si vede è uscito vincitore ragazzi grazie Omi per l'opportunità che ci hai dato grazie Omi ti ringrazieremo non ti ringrazieremo a metto nel collo grazie raga ciao a tutti ci vediamo speriamo di vedervi un'altra sera vabbè comunque è zona balneata si si è anche calda secondo me l'acqua sensazioni a freddo commento ragazzi potete vedere che è bagnato non è si è buttato davvero non è che sono Steven Spielberg si è visto ci stanno buttando medusata preso una medusa vabbè la medusa è alta per queste cose la pipì la pipì possiamo andare a finire le patatine staccatta non hai fatevi la pipì addosso non era frida ci stava maglietta rossa lifeguard scams è bagnato da solo dovete fargli pipì addosso per la medusa si può è bannabile adesso ti butti da quel punto più alto no basta no basta basta che poi ce l'ho sulla coscienza salutatevi in book ciao ragazzi buona sera ciao ragazzi salutatevi in chat buttatevi tutti che facciamo che è che inizia a bisciare no è bannabile non ci può facciare la conta raga per chi inizia ah ti giuro mi prude tutto fischiate lì ciao raga ciao a tutti grazie a tutti per essere entrati ti giuro mi prude da bestia grazie raga però è insopportabile ci vediamo ci vediamo dov'è che ta mi prude da qua a qua sei rosso fa il flash fa il flash aspetta domani omi se vuoi stessa ora super giunti ti aspettiamo alla grande no no non usciamo i piedi mille ah si vedi lì è usci perché mi sono grattato adesso beh però qua su provare al collo tutto il ruso no no non ero se vuoi grattare beh ma un picchettino piccolino eh ma no questa questa è letteralmente una grandissima sfiga ciao ragazzi grazie